Altro colpo messo a segno dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, nel contrasto al fenomeno dei reati predatori. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo hanno eseguito diverse perquisizioni, una delle quali in località Laura, su una votovettura con a bordo due giovani di nazionalità straniera. Durante la perquisizione i carabinieri hanno scoperto una borsa contenente documenti ed effetti personali, il tutto appartenente ad una donna che ne aveva subito il furto a Capaccio Pestum. I malviventi sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Nel medesimo contesto il soggetto, di origini slave, alla guida del veicolo, è stato denunciato anche per guida senza patente, perché mai conseguita.